L'Inter a caccia della prima vittoria europea stagionale a San Siro contro il Partizan con Coutinho dietro a Livaia e a Cassano, preferito a Palacio e però della formazione di Cassano, Inter che rischia anche di capitolare all'ottantasettesimo Markovic, a Tubertù con Andanovic, è bravissimo a chiudere lo specchio e la porta alla 18.